where do we go and why do we go here ormai passatempi potrei vomitare però non passatempi parco parco ci si si no mi piace va bene andiamo a passatempi che faccia illa dai ma parco a me non piace ma parco fa poco parco fa veramente ogni volta che vado ci muoio subito parco fa vomitare non che passa in pizia meglio ma barco è peggio la caramella no perché non è una macchina non voleva contestare tozio no no mi tirano i raggi paura poverino corre sono sulla macchina nome sono morto io sono morto ma dove matti devo ristare non lo so non lo so dove restare poteva dire in modo in caso muoio da voi dietro infanteria infanteria uccidili tutti ti prego martina perché parlato 2 io ne ho fatti c'è tipo a chicca c'è un problema e amo non venire da me però se di morire morì e non vediamo in due a morire scusa vieni qua da me ma sono solo due martin ma sono 20 hp o 20 hp 20 il kit dovresti darla giorgio giorgia lo tira ma me ne vanno ai cure puoi darmi qualcosa ti bussiamo una foto bianco 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 è un hit dov'è ha riftato lo prendi in volo te lo giuro su dio lo prendi in volo per forza è poco one hit sì 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 ok dove sta zuguie 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 che bel fanteria questo posso prenderlo grazie spara un colpo di ar però soccoso dammi una mano ma dai un colpo io non ho colpi sei tu quella che annuta tutta la casa no no è giorgio giorgio ti ritoglio ora dalla latta vai via vai via guarda le splash dai ma dammi qualcosa splash nuove fai vedere le splash nuove al video ragazzi guardate che splash sono ritornata all'interno di fortnite season del nuovo aggiornamento oh my god incredibile come potete vedere abbiamo pure il fucile pesante a tamburo che è molto forte in box fattuto da pad player ma è molto alternativo da utilizzare all'interno dei box bene ragazzi ora procediamo verso loot lake per andare a cercare le nuove armi del nuovo aggiornamento oh my godness let's go siamo delle youtuber perfette comunque mamma mia we are so beautiful aspetta aspetta vieni qua vieni qua vieni qua ragazzi incredibile ma l'utile che si è aggiunta una palla oh my god sembra il mio testicolo la mattina ti fa ristare potrebbe spruzzare potrebbe vedi che c'è un po' di bianchino si potrebbe essere effettivamente un problema tecnico se lo tocchi esplode aspetta giorgia vieni qua giorgia vieni qua giorgia vieni qua guarda là ragazzi è tornato il meteorite non ci credo oh my god la clip storica di difio che si incide buga lì no way no way 35 doppio giuro 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 non sto scherzando tamburo torno da te oh my god allora tolte il bus 72 dopo 72 dopo 72 no no non corro non mi si attacca al coso 34 knock oh my god la Ryzen qua la Ryzen l'avevo distrutta c'è un po' l'ampala 38 di coso dov'è chicca scusami sei distrutto no 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 knock 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 c'è l'ultima reno ho tutte le armi scariche raga eh ho capito non riesco a prenderla perché le armi scariche ce l'ho fatta scusate oh my god this is a zoo con culo near me ragazzi questo è un maggioramento il chug chug non si può fare no dai no dai roga 15 secondi vaga benvenuto nel team mi metto a piangere te lo giuro su dio cioè dai martina hai hai 3 secondi martina chicca ti prego chicca ti prego dai martina fallo facili stare no vabbè non la faccio più basso il gioco è bello quando dura poco pronto non puoi non te lo farà non te lo farà non te lo farà no il altro non lo fa niente io ragazzi questo generamento di fortnite fare il chug è molto difficile perché i compagni sono un po' pezzi di ma davanti 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 31 doppio ha craccato white un hit ma dove martin dove li vedi vabbè il là se sei dal tonica e cieca dove 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 lì lì dentro il mio altro io la sei più forte tu ricorda la tua potenza martina è una mano a ida è bianco bianco sempre di georgia craccato ok ci sta ci sta ci sta mi piace mi piace raga raga manca uno raga manca uno anche colpo secondo me qua dentro perché c'è citta furbox oh my god you are dead ma dove sta martin li vedete che mi viene 31 361 in edge ma dove è chica non lo vedo sono tutti lì stanno buildando come dei caimani riservano 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 dietro 32 4 andiamo sopra craccato craccato mini full box 50 morto 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 bianco ancora 60 bianco marty questo è bianco vada prenderlo riservano raga raga sarai 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 morti 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 tutti team oh morto 71 in testa ma comunque fa troppo danno sto roba ma sono le baller si ci sono le baller what oh ha il cecchino occhio sta mirando raga oddio stavate stirate essere una palla guarda come guarda quello che mi ha fame non posso peccare oddio tipo quando pensano una mattina così il chilling proprio grande 34 quello con il cecchino no non so non so da dove non è il tipo di primo no no dottoressa sta cechinato da dusti mi sta a 200 metri eccolo che arriva con la nostra da vorresti subito chica mi fermo io se sparano mi fermo io ok da l'aila da 200 metri da dusti ti hanno sparato si sarebbe lì dove sta parlando dei mini 71 in etch ancora 37 blu io continuo a piccare raga io faccio spiegare tutte le cure se non mi noccano ve lo giuro faccio il panico credo sei in testa crack credo sei un po' di suami vai veloci raga c'è un noc mi sa di la pure si ma io non mi vedo il certo non capisco da dove vabbè da qui da qui da qui sono da sola quindi forse l'ho boxato no forse no il tuo box lo trappolo è mia ottimo ma è l'ultimo fight è l'ultimo fight kick è l'ultimo fight comunque 28 non trovo loro ma c'è il jetpack no no lo lascio si prendo il cecchino dammi a me dammi a me il jetpack lo voglio io ma qui c'è una trappola aspetta mi sparano aspetta no 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 via 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 vattene via vattene via però voglio il jetpack basta 42 body 42 crack yanco lo push non mi interessa che devo pusharla 34 quello la cosa che andava via vengo da te conato finisco il coso non mi interessa gli ho preso il coso scala non è madonna come mi spamma sto lavoro white è chiamato dietro già 100 crackato il mate crackato 150 mattina continua a fare pressione qua sotto ma che cazzo ma quanto ho messo no vabbè ho perso un fight che devo dire tranquilla chillà 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 sei galma tranquilli chi 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 6 1 di 1 chicca domani c'è ansia fallo per i tuoi fan ma non è un cazzo di demone